Allora, benvenuti al circuito internazionale del Mugello, stiamo viaggiando a circa 302 km Ma va, primo culo, vai! No, è meglio percorrirli Passo, passo, zorro Abbiamo uno smito gruppo di zorri Sì Sì Putta bene, bene, bene Si sa che si va così, te li piace? sia mandatura si lavoriamo sul controllo si della mente però 2.52 esatto Loren, funziona così la mano grazie a tutti 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 grazie a tutti